rilassiamoci un attimo va fumamocela va bene accorlo subito dal supremo immenso illustrissimo splendissimo inarrivabilissimo arrivo subito di lì che arrivo eccomi sono giunto mio lord mio unico e solo presidente mi dica uè vado volevo solo sapere come sono andate le cose appena ho saputo che mi voleva il rapporto sono venuto mio presidente si sa che fra un bug a bug e l'altro tutto bene signor presidente abbiamo iniziato bene 2 a 0 a bologna signor presidente meglio non potevamo fare mi creda va bene va bene l'importante credo che i ragazzi riesca a proteggersi presidente immenso illustrissimo di meglio stanno lavorando bene i nostri aderni va bene dai nuovi acquisti nuovi giocatori non potevamo chiedere di meglio c'è solo qualche cosa da aggiustare sentiamo dimmi cosa c'è potrebbe da aggiustare il mio lord c'è un po di lacune poco filtraggio a centrocampo vabbè ma noi siamo una squadra sensora proprio per tradizione e colmare questi vuoti va bene uguale dai ci aspetta le prossime partite saranno molto ma molto complicate mio signore ma abbiamo i mezzi la voglia di fare bene signor presidente questo non lo metto in dubbio siamo in milan siamo la nace in milan e dobbiamo vincere e convincere in qualsiasi parte del mondo credo questa è la via del lato rosso nero della forza si ricordati o con noi o contro noi lo saranno con noi o con tutti contro di noi ma non siamo in milan siamo in diavolo finalmente avremo la nostra rivincita e non ci fermerà nessuno con la classe e l'eleganza che ci contraddistingue credo inconsciente